Siamo al Museo Costantino Barbella, nel cuore del Centro Storico di Chieti, un luogo in cui sono custoditi i tesori dell'arte abruzzese e anche pezzi che riguardano Gabriele D'Annunzio, come il ritratto che vedete alle mie spalle, un ritratto firmato da Francesco Paolo Michetti nei primi del Novecento. Con me c'è un appassionato di D'Annunzio, un appassionato vero. Salve Federico Palmaroli. Ciao, buongiorno a te. Federico Palmaroli è un vignettista diventato un fenomeno mediatico, l'autore delle pagine social Le più belle frasi di Osho, l'interprete dell'attualità politica italiana in chiave satirica. Federico, come vede D'Annunzio in quest'opera immaginifico, sognatore, fiero, orgoglioso? Lo vedo soprattutto un po' più in carne rispetto a che evidentemente non ho ancora provato da quella straordinaria vita vissuta di cui ci sono tante testimonianze. Io poi sono molto legato alla figura più del Vate che del poeta, quindi le imprese di D'Annunzio, soprattutto quella di Fiume, per me sono un po' un oggetto continuo di studio e di approfondimento. Ma perché le piace D'Annunzio? D'Annunzio ovviamente sono venuto in contatto con D'Annunzio ai tempi di scuola, però là si studiava gli aspetti più letterari della vita di D'Annunzio. Poi devo dire che, come dicevo prima, con le vicende di Fiume ho ricominciato un po' a ristudiarlo e poi sono molto appassionato di futurismo, quindi sono anche dei momenti che si incrociano, Marinetti, D'Annunzio, insomma tutta quella epopea e quelle figure straordinarie che temo non rivedremo mai più profili di questo spessore in Italia. Se non sbaglio lei ha fatto il liceo classico a Roma, vero? Allora le dico una cosa, perché D'Annunzio ha frequentato per un anno il liceo classico Vico qui a Chieti. Aveva una pagella eccezionale. Allora gliela dico perché aveva la media dell'8,82, aveva un 10 nella versione da latino in volgare, 3,8, composizione italiana, greco e aritmetica e poi tutti 9. Era il 1878, undici anni dopo, D'Annunzio ha scritto il piacere ed è diventato il poeta che conosciamo tutti. Lei al liceo era all'altezza del padre? Assolutamente no, ero ben lontano da quel tabellino di marcia. L'8,82 era un miraggio. L'8,82 forse sommando tutti voi ci arriviamo. Lei me l'ha annunciato prima, lei è anche un cultore del futurismo, ma secondo lei è una leggenda che Filippo Tommaso Marinetti e Gabriele D'Annunzio si odiavano così tanto? Oppure è vero? Ci sono testimonianze, ho ascoltato più volte Giordano Bruno Guerri raccontare alcuni aneddoti simpatici, le definizioni che si davano, ovviamente anche quelle molto geniali. Però come tutti i geni, insomma, poi alla fine c'è anche un po' di follia che ti porta anche a delle stravaganze che riscontriamo sia in Marinetti che in D'Annunzio. Poi del resto poi geni e follia rampolano l'unica sorgente, quindi comunque personalità di questo tipo è normale che venissero poi in contrasto. Ma Marinetti diceva di D'Annunzio che era un passatista. Sì, diciamo insomma non si sono risparmiati delle definizioni fantastiche, però poi insomma anche in D'Annunzio comunque c'è molto di quello che Marinetti teorizzava, ho letto diversi libri di Marinetti, comunque è evidente che comunque una certa influenza l'uno nei confronti dell'altro sicuramente c'è stato. Tra l'altro a fiume si sono ritrovati anche insieme. Però D'Annunzio, secondo lei D'Annunzio è così lontano dal 2022? E diciamo che come dicevo prima, insomma personalità di questo tipo è difficile veramente pensare che possano essere ritrovate. Non riesco sinceramente a rivedere in questi tempi neanche una briciola di quello che è stato D'Annunzio. In nessuno e in niente, cioè servirebbe uno come D'Annunzio per prendere appunto l'Italia come se fosse un mocchiero e portarla in salvo, ma perché è vero, comunque non sono molto ottimista io sul futuro proprio dell'umanità, quindi figure come D'Annunzio, come Marinetti, insomma per me sono sempre dei pari. Ma per prendere D'Annunzio e portarlo nel 2022, secondo lei come si troverebbe? Beh, lui per alcuni aspetti sicuramente è stato un visionario, quindi penso che si troverebbe molto a suo agio, perché credo che sia stato il primo uomo di marketing, quindi penso che sicuramente per quello che è stato D'Annunzio credo che non avrebbe problemi a vivere nessuna epoca storica, si troverebbe a suo agio ovunque. Siamo in un'altra sala del Museo Barbella, alle nostre spalle le opere di Basilio e Michele Cascella, invece in questa teca c'è il manoscritto originale della figlia di Iorio, questo è un pezzo clamoroso. Federico, guardi la prima riga, vengo, ti segno che tutto non dissi. No, mi colpisce il fatto che abbia donato questo libro al suo liceo, è una di quelle cose che non mi sarei mai immaginato di fare, lui evidentemente comunque ha tratto diversi insegnamenti, ma andava molto bene in questo liceo, quindi si è sentito di dover ricompensare in questo modo e mi colpiva soprattutto la confezione regalo. Com'è questa confezione? Beh, a parte che c'è appunto questa targa sopra, forse leggi meglio tu. Al municipio di Chieti, offre Gabriele D'Annunzio? Esatto, con questa placca, mi ha colpito questa cosa di vedere un ex alunno che dona un'opera, il manoscritto originale di un'opera alla città e come segno di riconoscenza anche nei confronti del liceo. Io ho fatto il libro ma non mi sono mai sognato di regalarlo a nessun professore. Vabbè, diciamo che il libro mio è poi una raccolta di vignette, quindi non è un'opera ovviamente come quelle di D'Annunzio, però non ci ho pensato neanche un attimo. A proposito di manoscritti, lei oggi è a Chieti per presentare il suo libro, Carcola che Vesfosa. Siamo là più. E' ospite dell'associazione Noi del GBD con il presidente Luca Cipollone e la vicepresidente Monia Scalera. Se lei dovesse fare una pubblicità per questo libro, cosa direbbe? Direi che il meglio forse di quest'anno, presuntuosamente, sono state le mie vignette perché sono stati di questi due anni, sono stati due anni molto difficili, sono stati difficili anche per me, però sento tanta gente, io lo dico un po' presuntuosamente, però tanta gente mi dice che grazie alla mia satira comunque è riuscita ad alleggerire due anni molto complicati, quindi evidentemente qualcosa di vero ci sarà. Quindi quando dico il meglio e il peggio di un anno italiano, direi che il meglio forse è rappresentato dalla capacità di saper sorridere anche in momenti così difficili. Invece il peggio? Il peggio sicuramente, un tempo il peggio era costituito dalle distorsioni della politica, dai problemi che affliggono gli italiani, tutte le cose che la politica non riesce a risolvere, che sembrava quello su cui la satira dovesse concentrarsi per evidenziarlo, e invece purtroppo in questi due anni il peggio sicuramente è stato purtroppo la pandemia, adesso la guerra è ancora peggio perché comunque la pandemia comunque è stato un momento che è stato affrontato in qualche modo e che si è potuto comunque arginare. La guerra purtroppo siamo un po' più impotenti di fronte a questo. La copertina, questa immagine è un po' simbolo, ma alla fine Draghi ci ha sfondato oppure no? I calcoli li faremo proprio ricalcando un po' il titolo, i calcoli li faremo alla fine perché bisogna uscire un po' da questa impasse costituita dalla guerra per capire se l'arrivo di Draghi è stato benefico o no, certo, insomma la guerra non gli è stata la mano, questo è poco ma sicuro. Allora, le sue vigliette viaggiano via social e c'è la possibilità quindi per gli lettori follower di interagire, di scrivere dei commenti, io ho visto che lei spesso risponde a quelli che fanno un po' i saccenti, un po' i presuntuosi, come mai questa scelta di rispondere e non lasciar cadere? Ma veramente, ultimamente lo faccio molto meno, prima ero molto più presente anche nelle risposte, poi dopo un po' uno si stanca anche, ma perché, vabbè, certo, di base non sono uno insomma che è proprio tranquillo, quindi sono abbastanza fumantino. In più non tollero delle forme di stupidà estrema come quella di andare a scrivere dei trattati di politica, geopolitica oppure anche sanitari, come abbiamo visto, da parte di personaggi che non hanno nessuna competenza. Le sue risposte servono un po' a rimettere a posto queste persone. Beh sì, perché la satira ti piace, non ti piace, no, però, insomma, non, cioè, può far ridere, può non far ridere, ma io poi, soprattutto parametrandolo su me stesso, cioè, dico, cioè, io se una cosa non mi fa ridere passo oltre e non mi metto lì a spiegare perché non fa ridere, ecco. Una curiosità, le fa piacere essere diventato un personaggio noto che è oggetto di polemica politica da una parte e dall'altra che viene riconosciuto anche per strada? Oh, eccoci Osho. Sì, no, vabbè, questo è il secondo, la seconda cosa avviene molto, molto poco perché comunque io ancora, insomma, mi cielo un po' dietro a questa figura, insomma, a questo pseudonimo, quindi non compaio io, se non quando mi invitano in televisione non compaio proprio Deviso. Ci sono ovviamente gli aspetti positivi e negativi, ovvio che le gratificazioni fanno piacere a tutti perché, insomma, si cerca sempre un po' il consenso e il riscontro. Dall'altra, ovviamente, stare al centro delle polemiche non è mai piacevole. Diciamo che negli ultimi tempi, insomma, anche perché c'è, per fortuna, qualcosa di più importante di cui occuparsi è successo di meno, certo, è successo soprattutto nel momento in cui c'è stato così il cortocircuito che nessuno si aspettava, che una cosa, e comunque più o meno piaceva a tutti, non veniva da, non era identificabile una parte politica ma con un'altra anche se io odio le etichette perché comunque non mi piace essere schedato sotto una voce e quindi là, sì, ho avuto un po' di problematiche però poi, sai, io penso di aver rotto un po' gli steccati perché poi alla fine non credo di essere comunque apprezzato un po' da tutti, poi se ci stanno gli utenti del web che sono un po' più cattivelli e quindi non tollerano comunque satira che non abbia un unico colore, pazienza. Lei collabora anche con giornali, programmi tv, compreso anche Porta a Porta di Bruno Vespa che è un abruzzese doc, ma con Vespa voi li prendete più professionalmente o più politicamente? No, beh, non c'è, no, è una stima reciproca, ovviamente lui ha apprezzato il lavoro che ho fatto ha visto che comunque era una satira che poteva sicuramente essere adatta a Porta a Porta e ogni volta, quindi diciamo, non c'era nessun tipo di discorso a margine nel senso che lui ha apprezzato il tipo di satira che io facevo e quindi, e questo poi si vede perché comunque ogni volta che ci sono gli ospiti politici ed escono le pevignette comunque si divertono tutti là in studio, non c'è mai nessuno che ha storto il naso anche perché, insomma, la mia satira, la peculiarità non è quella di essere offensiva ma un po' di raccontare con un altro linguaggio la politica, quindi non c'è niente di particolarmente molto offensivo, se no non ti tanto, però se è più cattivo ovviamente ne esce sempre fuori Una cosa, qua c'è la dedica, questo libro è dedicato a quell'idiota che lo prenderà sul serio a tocca piano sempre lei Questo l'ho scritto semplicemente perché a volte vedo dei commenti ma non succede solo a me questa cosa, insomma, la satira, il compito della satira è quello di estremizzare la realtà, di farne un paradosso, non è quella di dare una notizia, è normale che io non potrò mai rappresentare una situazione allo stesso modo in cui la rappresenta la cronaca perché quella lo fa la cronaca, io la rappresento ovviamente esasperando quindi le critiche alla satira come se raccontasse qualcosa di obiettivo che non è compito della satira, parte da una notizia ma poi ovviamente un po' la distorce vuol dire prendere la satira sul serio che non è secondo me quello che dovrebbe accadere quando io vedo comunque dei commenti come se appunto io stessi dando una notizia quella è una di quelle cose appunto che mi fanno alberare e sulle quali intervengo più facilmente l'ultima, ripensando al tuo ritratto di annunzio di Michetti, ne viene in mente una battuta? eh, così, questa mi sta chiedendo una roba di quelle cose proprio che non, no, poi non ce l'ho neanche di fronte quindi ci posso pensare e poi elaborarla in un secondo momento grazie